Ciao ragazzi, oggi faremo un esperimento. Bisogna avere un po' d'acqua in un gesso bagnato cavo. Non me lo aspettavo così, vai dentro acqua. Forse dovevo prenderlo come diventare l'acqua. Forse proprio di sì. Prendiamo un po' d'acqua. La mettiamo dentro. E così dovremmo essere un sieno che non sembra come quello che dovevamo ottenere. Miscola, miscola. No. Diamo un secondo questo. E dai. I cosi che li abbiamo fatti. Cioè io, ecco. No, 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 no. No, 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 no. Oh, che cavolo ho fatto. Oh, che cavolo ho fatto. Questa cosa è molto strana. Non so esattamente cosa ho fatto. Acqua di gesso. E sì, ciao.